Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA 5 per fare un video e per discutere con voi di questo nuovo mistero che è stato scoperto su GTA 5 ma che o meglio è stato inserito dalla Rockstar su GTA 5, quindi non è un mistero scoperto ora e inserito tipo all'inizio del gioco, no, è stato inserito con questo nuovo DLC e si può trovare solo su GTA 5 online, quindi diciamo che è una specie di mistero ma neanche più di tanto bisogna un attimo discuterne insieme e sapere soprattutto che cosa ne pensate voi, quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere se anche voi vi è capitata una cosa simile e se avete effettivamente visto anche voi questa specie di nuovo mistero prima di tutto come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale se siete ancora iscritti, lasciate un bellissimo like a questo video e commentate qui sotto con quello che mi volete far sapere, insomma lasciandomi un vostro parere ma se proprio non avete nulla in mente da dire, comunque scrivete l'hashtag che vi lascerò verso la fine del video in questo modo sarete partecipi del mio video e vi lascerò anche un bellissimo cuoricino bene, allora di che cosa sto parlando? Sicuramente dal titolo avete comunque visto di che cosa sto parlando e insomma capito sto parlando della caccia al tesoro beh, diciamo che questa è una specie di vero e proprio mistero sotto un certo punto di vista ma anche no perché dico anche no? Ve lo spiegherò man mano allora, tutto parte con un'email che ci arriva sul cellulare mentre noi siamo in una sessione solo inviti oppure pubblica non fa differenza, potete stare ovunque vi arriva messaggio con in allegato una foto una foto dove rappresenta appunto il posto dove dovete trovare tramite quella foto appunto dovete trovare il posto che vi viene indicato però non fate come me che ho cominciato a girare tutta la mappa a cavolo di cane pensando che il posto potesse essere ovunque aprite la mappa e vedrete che appunto avete un'area con il colore giallo e dovete cercare in quell'area mentre io ad esempio sono rimasto scioccato non appena ho visto questa cosa perché stavo cercando praticamente sul monte Cigliad una volta che abbiamo trovato comunque il posto troveremo un foglio di carta abbastanza vecchio troveremo scritto su questo foglio di carta che il tesoro della nostra famiglia è stato spostato non c'è più qui voi figli di Poo non lo troverete mai ok, una cosa abbastanza simpatica che ti fa mettere direttamente il mistero proprio nella testa e dici caspita io devo ora mi concentrerò solo a fare questo e la mia vita si baserà proprio su cercare i tesori su Jeter 5 yeeeh non ci avrei mai pensato da bambino lasciamo stare cavolate a parte una volta trovato appunto questo pezzo di carta spawnerà sulla mappa altre tre zone con il bollo giallo insomma con l'area gialla vabbè dovete dirigervi in ogni area gialla e quindi trovare un indizio e trovare tre oggetti misteriosi tre oggetti strani insomma che dovete appunto analizzare stile Batman, Arkham e quant'altro gli oggetti sono semplicemente questi tipo la scatola di un'arma senza la pistola poi quell'altro è tipo una pala e poi un altro è invece il cadavere di un uomo all'interno di una fessura tra dentro la montagna insomma un buco dentro la montagna il cadavere di quest'uomo è senza faccia sono due i motivi o è la rockstar che non c'aveva la voglia di fare la faccia a quest'uomo perché infatti poi la texture di questa persona fa proprio cagare fa proprio schifo per davvero non sto scherzando la texture fa schifo per davvero oppure è stata mangiata da qualcosa il Bigfoot, il lupomannaro, il ciupacapra non lo sapremo mai perché siamo soggetti a 5 quindi le cose non si sapranno mai vabbè una volta trovato questi tre indizi questi tre oggetti misteriosi sulla mappa sponerà direttamente proprio il simbolo del tesoro proprio la scatoletta e il simbolo del tesoro voi non dovete far altro che recarvi in quella posizione esatta e troverete un baule che all'interno conterrà un'arma al fianco del baule ci sta un uomo tipo una specie di contadino morto anche lui morto perché in questo caspita il tesoro di famiglia tutti quanti muoiono e c'è un'altra pala che vabbè non si capisce sta pala dove cavolo è non c'è non l'avevano mai messa la pala mentre ora in questo aggiornamento la pala è presente su un veicolo nuovo accanto all'uomo morto ed è presente anche nell'indizio che abbiamo trovato nell'oggetto misterioso comunque sostanzialmente alla fine del discorso alla fine del mistero e quant'altro troviamo un'arma un'arma tutta dorata e quest'arma non è nient'altro che un'arma una pistola appunto del gioco Red Dead Redemption che io personalmente non ci ho mai giocato quindi so consapevole che ora mi romperete mi scasserete la mi due no non ci ho giocato e al secondo forse ci giocherò non è detto forse va bene quindi diciamo che questo mistero oltre a servire per far divertire il giocatore per intrattenerlo per quella singola volta che è più che altro una sorta di pubblicità al nuovo Red Dead Redemption e ragazzi la Rockstar ha fatto una mossa strafiga cioè una mossa di marketing di pubblicità forse uno sviluppatore non ci avrei mai pensato perché è una cosa che ti intriga una cosa divertente una cosa che intrattiene il giocatore che lo invoglia perché comunque è una nuova arma anche se l'arma comunque effettivamente magari potrebbe non essere buona per quanto riguarda il danno cittata e quant'altro però il giocatore alla fin fine gliene frega poco perché quei 10 minuti ce la fa a prendere una nuova arma un'arma diciamo segreta e quindi qual è il problema dopodiché una volta ricevuta l'arma presa l'arma è vostra per sempre e in alta a sinistra vi arriverà una notifica ovvero uccidi 50 persone fai 50 colpi alla testa e sbloccherai un'arma segreta ora non ricordo bene qualcosa comunque di speciale nel prossimo Red Dead Redemption 2 per questo vi dico che è appunto una sorta di pubblicità al nuovo gioco e caspita tanti complimenti alla Rockstar per aver avuto questa geniale idea che oltre a divertire il giocatore fa anche la pubblicità gratuita sul suo stesso gioco ragazzi l'hashtag di oggi è hashtag tesoro proprio perché stiamo andando a parlare della caccia tesoro del mistero diciamo della caccia tesoro e di quant'altro quindi ragazzi se siete arrivati fino a questo punto del video e volete un cuoricino da parte mia hashtag tesoro e io vi lascerò un bellissimo cuoricino bene continuiamo comunque questo non penso sia un vero e proprio mistero perché non c'è nient'altro di nascosto cioè ci sono solo queste tre cose da trovare oltre a tizio che magari ha la faccia sbranata ma dubito che lì ci sia qualche cosa di misterioso secondo me è proprio la rockstar i dipendenti della rockstar che non ci avevano voglia di creare la faccia a quel personaggio morto questo qui appunto non è un vero e proprio mistero ma è una mossa di marketing sostanzialmente mossa di marketing ripeto carina che intrattiene il giocatore e lo intriga e che inoltre lo ricompensa anche con una piccola pistoletta dorata che fa la sua porca figura tra l'altro tra l'altro le locazioni segrete sono 20 quindi 20 locazioni segrete non so se mi spiego non è che mica solo una no sono 20 quindi magari una è diversa dall'altra e a ogni giocatore lì capiterà una locazione diversa e diciamo che la cosa ti soddisfa di più perché magari tra un gruppo di amici tre amici ognuno ha appunto la locazione diversa e ti soddisfa di più quindi trovare la zona che ti viene richiesta tra l'altro ragazzi se non avete voglia magari di cercare voi con le vostre mani il posto segreto spero e penso di riuscire a fare un video di tutte 20 le locazioni segrete in questo modo vi aiuterò e insomma una volta che voi vedete l'immagine vi aiuterò comunque con la locazione segreta comunque se farò qualcosa del genere vi lascerò il video verso la fine di questo video oppure in descrizione a questo video o anche nei commenti bene quindi magari se non volete farlo potete seguire il mio penso futuro video tra l'altro sono consapevole che molte persone hanno fatto live video anche su questa caccia al tesoro ma comunque io l'ho voluta ma comunque non ho voluto parlarne sul mio canale per il semplice fatto che voglio esporre un mio pensiero voglio sapere il vostro soprattutto e penso che molti si siano soffermati sulla caccia al tesoro e che non tutti hanno visto che appunto sia una pubblicità a nuovo gioco di rockstar che uscirà a breve si spera spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like a questo video commentate qui sotto con l'hashtag che vi ho lasciato pochissimo tempo fa commentate qui sotto soprattutto lasciandomi un vostro parere quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa caccia al tesoro se per voi è simpatica se per voi è giusta una pubblicità del genere su un gioco per me non ci sono problemi alla fine non ha dato nessun fastidio ed è simpatica e raga iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci possiamo benissimo vedere al prossimo video e ciao ciao ciao